Fumbulla, El Sharawi di prima per Bove, difficoltà nel controllo, può partire Enrique, va a incrociare Pinamonti, Enrique dentro per Frattesi, fondamentale Smalling, palla buona per Pinamonti, Rui Patrizio ci mette la mano, sporchissimo l'Oriente, tutto buono il Sassuolo è in vantaggio, minuto 13, la sesta rete in campionato di l'Oriente, manda davanti Nero Verdi all'Olimpico. La rispinta di Rui Patrizio, debole, l'Oriente deve soltanto soffiare sul pallone, Enrique apre il tocco per Frattesi, il primo tiro a Murato da Smalling, palla buona per Pinamonti, Rui Patrizio così così, non fa benissimo nel tap-in, l'Oriente è sufficiente per spingere il pallone in porta e regalare il vantaggio al Sassuolo. Seconda rete di fila dopo quella alla Cremonese, dopo il pallone perso da Bove a centrocampo, non facile da controllare, questo il primo tiro, poi Pinamonti ci riprova, Rui Patrizio la lascia lì in zona centrale. Consigli al limite. Rogerio Lungo, corre l'Oriente anticipato di testa dai Bagnez, ottimo il tocco di l'Oriente, Frattesi, apre per Berardi. Di nuovo l'uno contro l'uno con Spinazzola, la frenata la rimette sul sinistro, altra finta, il taco splendido per Tolian, palla in mezzo, la chiusura di Matic, Berardi, respingero in Patrizio, ancora Berardi e ancora l'Oriente. 2 a 0 Sassuolo, doppietta per Armand l'Oriente. 18 minuti, la Roma è sotto di 2 all'Olimpico. 1-2, micidiale per il 45 nero-verde. E per la Roma, adesso complicatissima, splendido il tacco di Berardi che libera Tolian, Matic non benissimo ad allontanare, Rui Patrizio si salva col piede, Berardi la rimette in mezzo. Altro tiro sporco di l'Oriente che rimbalza sul terreno, si alza e beffa, Rui Patrizio, i Bagnez sulla linea di porta. Settimo gol in questa Serie A, il terzo nelle ultime due partite per l'ex Lorient. Con Ferrari che ha toccato per l'Oriente. Frena su Camarà, la tiene ancora. Intercetta di bala, solo per un attimo, riparte l'Oriente, l'Oriente, l'imbucata per Pinamonti che fa poker. In gol come all'andata Andrea Pinamonti. 4 a 2 Sassuolo. Non segnava proprio dal match contro la Roma in campionato, si ripete con i giallorossi per la rete del 4 a 2. Questo è il pallone recuperato dall'Oriente che ai due gol aggiunge anche questo assist per Pinamonti che scavalca Rui Patrizio in uscita. Due gol per l'Oriente, un assist decisamente andata alla grande anche per i fantacalcisti. Sassuolo. 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 Sassuolo.